Comune sull'orlo del default e bilancio lacrime sangue, questa volta non solo sono i cittadini a pagare ma anche i politici. L'Aggiunta Maragno a Montesilvano ha deciso di tagliare del 20% l'indennità di sindaco e assessori. Viene così prodotto un risparmio di circa 140.000 euro. Troppo poco per sanare le falle milionarie nelle casse comunali, ma abbastanza per lanciare un segnale positivo alla cittadinanza. Credo che fosse un atto dovuto, purtroppo non è un periodo favorevole per l'economia locale, anche per l'economia nazionale. Tutti sono chiamati a fare i sacrifici e credo che comunque l'esempio debba essere dato dal primo cittadino della sua giunta. Cosa contiene il bilancio anche per dare contezza ai cittadini di quello che si sta facendo? Contiene le misure necessarie a far quadrare i conti di un comune in grave crisi, in grave deficit economico-finanziario. Voglio ricordare che nel giro di una settimana ci sono piovuti addosso da sentenze debiti per quasi 2 milioni di euro, debiti fuori bilancio per circa 3 milioni e mezzo di euro, che si vanno a sommare a un deficit strutturale di 3 milioni e mezzo di euro all'anno e ad un deficit globale costituito da debiti per circa 70 milioni. C'è un rischio default come è successo a Pescara? Il rischio riguarda tutti i comuni italiani perché purtroppo noi siamo passati da un sistema di contabilità che comportava dei bilanci sostanzialmente virtuali ad un regime di armonizzazione contabile per cui realmente bisogna dichiarare qual è la fotografia dell'ente. In questa situazione non si trova Montesilano ma si trova il 90% dei comuni italiani.